E allora si rinnova una tradizione qui in piazza San Francesco il primo giorno dell'anno Nanni Severi e la cricca della cosiddetta meglio gioventù si ritrova. Sì, come tutti gli anni, il primo di gennaio noi ci siamo e ci saremo sempre, per altri 20, 25, 30 anni noi saremo sempre qui. Ho visto che avete fatto anche gli intrattenitori dei tanti turisti che questa mattina stanno affollando il centro di Arezzo, avete fermato dei turisti veneziani. E' vero, perché hanno visto le scarpe che mi ha portato, sì, Babbo Natale, e allora si sono volute fare le foto con me. Ormai sei diventato un personaggio caldo, il primo dell'anno. Sì, grazie, grazie, grazie. E allora ragazzi, cosa vogliamo augurare per il 2024? Un anno in più va bene, siamo tutti più giovani? Tanto amore, tanto amore. Visto che sei anche il tifoso dell'Arezzo, che possiamo augurare? Un'altra vittoria, ormai ci siamo a Vezzi, a noi da Rezzi. Evviva, buona giornata.